Si rinnova la collaborazione tra comune e provincia per rendere più sicura la viabilità sulla provinciale per Carignano, quell'arteria che, seguendo il corso dell'Arzilla, collega la periferia di Fano partendo dal quartiere della Trave, si dirige a Fenile, poi verso Carignano e Santa Maria dell'Arzilla. Dopo la realizzazione della pista ciclabile, ora i due enti intervengono per mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi della provinciale, quello alle porte della frazione venendo da Fano, dove purtroppo si sono verificati molti incidenti, alcuni dei quali con gravi conseguenze. Per il comune di Fano hanno illustrato l'intervento prossimo alla realizzazione l'assessore alla viabilità Barbara Brunori e il sindaco Massimo Seri. Un'infrastruttura strategica, proprio ricordavamo, perché si snoda su un attraversamento di un centro abitato di Fenile dove naturalmente c'è un grosso rischio di promiscuità, proprio perché la mobilità, dovuto un po' alla velocità, tanto che sono state fatte delle rilevazioni, hanno evidenziato un traffico importante e ad alta velocità, si realizzerà una nuova rotatoria che favorirà sia l'accesso al centro abitato, ma modererà sicuramente la velocità in quel tratto e darà anche continuità a quella che è la pista ciclabile che abbiamo realizzato ed illuminato. Quindi continuerà sul tratto del distributore per poi accedere quantomeno alla parte commerciale che è limitrofe. Di quant'è l'investimento e come saranno i tempi? 225 mila euro, suddiviso in 87.500 euro da parte della provincia, il restante è intervenuto il Comune di Fano anche alla luce dei maggiori costi e diciamo che la partenza lavori dovrebbe avvenire intorno a marzo e concludersi entro l'estate. Si chiude un cerchio di impegni, soprattutto che va a dare garanzia ai pedoni, ai ciclisti e va a regolarizzare e a rallentare anche il traffico in quel punto cruciale del quartiere. Partner del Comune, come abbiamo detto, è la provincia. A Maurizio Gili, responsabile del servizio Viabilità, abbiamo chiesto di illustrarci dal punto di vista tecnico le caratteristiche della infrastruttura. Abbiamo progettato una rotatoria nel sedime dell'attuale intersezione con un diametro di circa 32 metri, quindi agevole anche per svolte anche di mezzi di un certo ingombro e presenta un transito anche di qualche migliaia di veicoli giornaliero. La rotatoria prevede anche la realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclabile a fianco dell'area di parcheggio del distributore per consentire la persecuzione della pista ciclabile già realizzata da Fano che termina proprio in quel punto, termina proprio nel punto di criticità tra le due strade. Per cui si è pensato di mettere un attraversamento in sicurezza, quindi con dispositivi anche luminosi e consentire un attraversamento più sicuro e più visibile e proseguire il percorso ciclopedonale verso l'interno fiancheggiando l'area dei parcheggi del distributore. Questo consente poi agli utenti deboli di inserirsi nel tessuto urbano più a monte e non lungo la strada comunale che è attualmente molto pericolosa proprio per le sue ridotte dimensioni geometriche.